Finalmente sono arrivato sulla luna. Devo dire che con il razzo sto messo davvero bene. Però ho un po' paura perché l'ultima volta mi sono schiantato contro un meteorite. Oh no, non poteva andare peggio di così. Ok, partiamo tra il 3, 2, 1... Il razzo a 104 si vola! Dai, ma perché a me fa sempre così male? Ah, ciao sospito. Lo sai che se continuiamo in questa direzione andiamo a schiantarci contro la terra? Perché nessuno mai mi risponde? Papo, un sole con una faccina si sta dirigendo verso di noi. Penso io. Ma dov'è Sans? Eccolo lì.